Proseguono senza sosta le indagini della squadra mobile della questura di Nuoro e dei carabinieri del comando provinciale per individuare gli autori dell'attentato di Ramitardo messo a segno sabato notte ai danni dell'auto dell'avvocato Priamo Siotto, presidente dell'ordine degli avvocati di Nuoro. L'attentato è stato messo a segno attorno alle 4 del mattino. L'auto del professionista era parcheggiata in via Spanu a pochi passi dal corso Garibaldi. La deflagrazione dell'ordineo di medio potenziale ha danneggiato gravemente le rondaggezze dell'avvocato. L'onda d'urto o dell'esplosione ha danneggiato poi i vetri dei palazzi circostanti, compresi quelli del seminario Dio Cesano. Sul posto sono giunte le volanti della questura, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le indagini non sono semplici e sono orientate a 360 gradi. Un'anime la condanna del gravissimo atto intimidatorio che colpisce una personalità stimata e di spicco dalla società civile nuorese. La giunta provinciale di Nuoro in una nota parla di ville attentato. Solidarietà è stata espressa anche dalla Confindustria della Sardegna Centrale. L'avvocato Primo Siotto in questi anni si è distinto per il suo grande impegno sul fronte delle rivendicazioni per un'amministrazione della giustizia degna di un paese civile. Proprio sotto la sua guida l'ordine forense ha iniziato una dura avvertenza nei confronti del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura per salvaguardare le prerogative del Tribunale di Nuoro e chiedere che in servizio ci sia un numero adeguato di giudici e magistrati. In questi giorni è partito il terzo sciopero degli avvocati del Foro di Nuoro che si protrarrà fino al 31 maggio. Proprio nei giorni scorsi l'avvocato Siotto insieme al procuratore capo Andrea Garau e al presidente del Tribunale Vito Morra sono stati ascoltati dal CSM sulla situazione del Tribunale di Nuoro. Gli attentatori hanno voluto colpire un rappresentante della società civile fortemente impegnato sul fronte della difesa dei diritti dei cittadini. Anche per questo è necessario che gli autori vengano assicurati quanto prima la giustizia. Stasera intanto un gruppo di giovani ha indetto un sit-in di solidarietà nei confronti dell'avvocato Primo Siotto proprio in via Spanu.